È un trend e una necessità l'isolamento a termini degli edifici. Infatti abbiamo visto quanto è importante sia isolare gli edifici visto il costo dell'energia, in particolare il gas, e quanto sia importante per il nostro ambiente riuscire ad avere un ambiente quindi sano, futuribile e quindi utilizzare meno carburante, meno energia, per poter assorbere questa funzione. La caratteristica del pannello è che è un prodotto applicabile direttamente a parete, quindi un cappotto, con spessore estremamente ridotto ed altissime performance. Voglio fare un esempio, con 15 mm di prodotto si ha la stessa performance isolante di prodotti tradizionali come l'EPS, il polistirolo. Quindi noi possiamo ridurre i nostri spessori, gli ingombri e facilitare l'installazione stessa del prodotto. Il prodotto è certificato, io invito tutti quanti a utilizzare sempre e solo prodotti certificati. È certificato dall'Istituto Giordano, che è un istituto riconosciuto da Credia e che garantisce quindi le performance del prodotto. Un istituto riconosciuto da Credia è un istituto di cui si sono sicure i risultati. Gli altri istituti che non sono riconosciuti da Credia sono come la B-Fire, che mi faccio magari la congiglia termica nel nostro termoflussimetro all'interno e poi metto un pezzo di carta, ma quello non ha nessun valore. Il prodotto si installa molto facilmente come un prodotto tradizionale da cappotto, con una particolarità, non si mettono i tasselli. Quindi si mette un prime sulla parete esistente in modo da agevolare la presa del collante, si spalma il collante come se fosse una piastrella, tanto per rendere l'idea, si applica il prodotto, una volta che il collante ha fatto presa si rasa e poi si dà una finitura, che può essere una vernice a crisi dosanica o un intonacchino. I vantaggi dell'applicare un prodotto a basso spessore sono facilmente intuibili, perché noi possiamo applicare il prodotto dove abbiamo esigenze di spazio. Facciamo un esempio in un condominio, un balcone che normalmente ha una superficie molto ridotta, può essere isolato con performance elevate, quindi come con spessori molto elevati, tipo 160 mm di RPS, con soli 15 mm. Quindi si salvaguarda l'utilizzo e la vivibilità dello stesso terrazzino, piuttosto che altri elementi come nei centri, passaggi su marciapiedi e altre situazioni che sono presenti nel nostro territorio. Il prodotto può essere applicato a qualsiasi superficie, persino a superfici curve, perché il prodotto leggermente si curva, quindi fino a certi vaggi di curvatura può essere applicato senza nessun problema. Dal punto di vista dell'ostituzionalità, il prodotto è certificato Remade Italy, che dà la garanzia che il prodotto è riciclabile. Sostanzialmente il nostro prodotto è completamente riciclabile, può essere rimesso nel sistema produttivo e quindi non creare danno ecologico, ambientale.